La Cenerentola incontra la sua matrigna soltanto 50 minuti per potersi prendere il suo principe Occhio però perché al termine di questi o perde la scarpetta o diventa principessa Buonasera e benvenuti alla seconda semifinale di Unilig tra Sdeghe e De Mappet Da una parte la Cenerentola dall'altra abbiamo definito un po' la matrigna Un po' la più forte a questo punto del torneo Gli Sdeghe e De di Gianmarco Amoroso che cercheranno di fare il possibile per conquistare questa finale Dove affronteranno i Bustura ma i Mappet sono avvorriti e hanno eliminato i campuri in carica dei Master Chef Tramontana, 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 Dazzaro, che gran parata di Dazzaro Evita in vantaggio di Sdeghe e De, ancora è finita con Dumbo che gestisce il pallone Zumbo per Tramontana, ci riprova la spara alta Adesso gli Sdeghe che hanno messo anche la terza marcia Per Capuano che si rispettava più avanti Ancora Capuano per Zumbo Zumbo vedi il momento di Amoroso che aggancia e si può dire Amoroso Il primo pallone toccato di Gianmarco Amoroso è trasformato in oro 1-0 per i Zdeghe e De, tanto per cambiare Gianmarco Amoroso Desimone, si prova, Desimone Riccio Con una palla di petto di fatto Ed evita il pareggio in metodo dei Mappet Ancora non è finita la palla che finisce adesso sul fondo Manu fa un grandissimo lavoro anche su lui Lo Bue, ancora Cusumano di testa, regalati un pallone a Lo Bue con un ping pong continuo Ancora Lo Bue, per Amoroso, si gira Amoroso Amoroso, ma non è possibile Due tiri di Amoroso e due gol Un bacino al palo ed è 2-0 Zdeghe De, ma che giocatore è? Gianmarco Amoroso Ai ai Fra Giamontana Do Grasso Crosta ci prova Crosta, vuoi provarlo Crosta, Rigio Con una gran parata e chiude la porta in faccia Ai Mappet Ai calma Siamo distante 5 metri dal fondo 3-2 Lo Grasso, tramontano a prova in fastidio A tecate dei Mappet Va a Lo Grasso La spara in alto Prendi Contro Rigio Va a lui Camastra Un grandissimo tiro libero Che riapre la partita Alla fine del primo tempo Vincenzo Camastra Il raso a terra A batteriggio 2-1 Marino Il fiancio lungo di Marino A cercare Amoroso Dataron Trasente stoppare la spazza Fuori con i pugni Un bellissimo primo tempo Equilibrato Ma il Zdeghe De Vincolo 2-1 Con un doppio schiaffo Di Gianmarco Amoroso Zumo Stacchio Imperioso Però c'è la palla a Cusumano Non la recupera Amoroso Sapuano che serve Amoroso Ancora più La cosa Crozza Lenza Palla Ancora crosta Zumo che mette Amoroso 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 Sempre lui Sempre Gianmarco Amoroso La tripletta Di Gianmarco Amoroso E lui E il capitano A portare avanti Zdeghe De 3-1 Cusumano Desimone Desimone può cacciare Desimone Sulla traversa Questo tiro di Desimone Che poteva riaprire tutto Tramontana Cusura ancora Capuano A impostare per Tramontana Che adesso Deva accelerare Tramontana Provincio Tramontana Un bolide di Tramontana Si spegne sulla traversa Per chiudere la partita La spaccata Amoroso Cambia per Zumo Zumo meriterebbe i gol Vediamo se lo proviamo Zumo Se c'è già Zumo E' una firma d'autore Quella di Vincenzo Zumo Che manda Gli Zdeghe De In finale Un gol meritatissimo Uno dei migliori in campo E si abbraccia Con l'altro migliori in campo Gianmarco Amoroso Sono loro A firmare la semifinale E a portare Gli Zdeghe De All'ultimo atto Di questo l'unico Guardiamo Amoroso Zumo A tutto con Dasalo Zumo E' la doppietta Meritata Di Vincenzo Zumo Che mette il punto esclamativo Sulla partita Gli Zdeghe De Sono la seconda Finalista di Unique Palermo Chichi Camastra Camastra può calciare Si accentra Camastra Calcia Chiuso da Capuano Scoramoroso a vuoto Come una farfalla Camastra in mezzo Per Chichi Che oggi non c'è completamente E l'arbitro Dice che può bastare così Gli Zdeghe De Filmano E vanno in finale Sono la seconda finalista Affronteranno In futura Nelle match finale Di Unique Palermo Per un posto A Milano Ci sono loro E non affronteranno In Manchester City Nel grande classico Di Unique League